Ciao Lupo, ciao Gianlu, El, ciao Daniele, ecco qua il vostro regalo di Natale. Pug Pug, il levatappi. Qualcuno l'ha già visto, altri lo vedono la prima volta. Apro la confezione. Il levatappi. Ok, cominciamo con le istruzioni. Estracco la lama, il coltellino, per aprire, togliere la capsula, semplicemente spingendo sulla spirala. La spingo, esce fuori il coltellino. Apro. Uso la lama per togliere la capsula. Ecco fatto. Tolto la capsula. Per far rientrare la lama, semplicemente aziono sempre questo, tenendolo in verticale, quindi lui per gravità ricade e si richiude. A questo punto uso sempre il mio levatappi come un normalissimo levatappi. Quindi apro e lo vado ad aprire. Semplicemente fino in fondo. Fino in fondo perché poi, una volta arrivati in fondo, ecco, alzo la parte più lunga. La parte più lunga la alzo in verticale, così, poi apro, mi si posiziona e comincio ad alzare il tappo con l'effetto pull. Da questo pull, pull, comincio ad alzarlo. Vado piano per far vedere meglio. Ecco fatto. Tolto il mio tappo molto velocemente. Rifaccio scendere la baionetta semplicemente arrastando e mandandolo giù. tolgo il tappo. Richiudo. Finita l'operazione. Lo rimetto nella custodia. Tra l'altro nella custodia ci sono le istruzioni. In caso non riusciate a ritrovare il tutorial.